In molte scuole della provincia di Teramo si stanno svolgendo incontri informativi su come comportarsi e su come affrontare gli inevitabili problemi anti-covid che si porranno alla riapertura. La CGL di Teramo elogia questo grande impegno, ma stigmatizza il grave problema degli organici e la girandola di supplenze che coinvolgerà quasi tutti gli istituti scolastici. Nei mesi scorsi, si legge in una nota del sindacato, era stato lanciato l'allarme sui posti che sarebbero rimasti vuoti. Le emissioni in ruolo non hanno coperto tutte le disponibilità, non ci sono state nemmeno le 260 programmate nei diversi ordini. Il numero delle supplenze per quest'anno in provincia di Teramo supererà le 500 unità tra docenti e ATA. Per la CGL sono necessari provvedimenti straordinari sugli organici, soprattutto su quello ATA, che vista l'esigenza di costante igienizzazione richiesta dalla pandemia, va profondamente rivisto, assicurando in ognuno dei 354 plessi scolastici della provincia almeno un collaboratore scolastico in più. A questi problemi, sottolinea ancora il sindacato, si sommano le notizie false. Una di queste recita. Non riapriamo le scuole perché subito dopo dovremmo chiuderle per il referendum del 20 e 21 settembre. In Abruzzo, per questa ragione, le scuole riapriranno il 24 settembre. Ma le scuole impegnate come seggi elettorali sono poco più di un terzo dei 354 plessi scolastici della provincia. A Teramo, ad esempio, sono 13 le scuole sedi di seggio elettorale, mentre ci sono 44 plessi. Negli altri si potrebbe, ad esempio, riaprire tranquillamente. Se questo tempo dovesse servire per apportare le migliorie necessarie alle strutture, allora sarebbe ben speso. Se invece rappresenta un ulteriore elemento di confusione, beh, questo per la CGL di Teramo non è utile.